Il recupero tra Rezzo e Provercelli su accordo delle due società si giocherà mercoledì alle 15 e non alle 20 e 30 e scoppia la polemica tra i tifosi e soprattutto tra gli abbonati a Maranto. Molti di essi infatti saranno impegnati al lavoro a mercoledì pomeriggio e non potranno assistere ad una partita che rischia di non avere la grande cornice di pubblico che si poteva invece ottenere in notturna. In un comunicato l'Arezzo precisa di aver accordato alla Provercelli la possibilità di poter anticipare la gara del 7 novembre alle 15 anziché alle 20 e 30 per consentire a loro il rientro in nottata piuttosto che dover sostenere l'onere di un ulteriore pernottamento. Alla luce del rapporto personale del presidente Lacava con il collega piemontese, persona ben nota e apprezzata nel mondo del calcio per serietà e correttezza, analogo trattamento sarà riservato alla nostra società o ve lo riterremo necessario anche per ricambiare la stessa disponibilità. È superfluo, ricorda il comunicato della società, ricordare come l'SS Arezzo abbia potuto beneficiare di analoga accettazione da parte della Juventus in occasione della gara già giocata dall'Alessandria che ci ha consentito il rientro nella giornata stessa di giovedì, evitando innegabili problemi logistici, potendo preparare al meglio la gara con l'Albissola della domenica successiva. Per dovere di chiarezza siamo rimasti alquanto sorpresi nel dover constatare come tale nostra decisione abbia sollevato numerose polemiche senza voler comprendere il reale motivo del nostro gesto. Da sempre, conclude la società, abbiamo dimostrato totale rispetto e disponibilità verso la tifoseria Maranto, della quale comunque nutriamo grande considerazione e stima. Ci sembra altremodo dannoso avere impropriamente chiamato in causa la poca disponibilità della società, tra l'altro sempre molto sensibile verso i propri sportivi. Oltre a dover ribadire che assoluta priorità della società poter condividere o risolvere eventuali problematiche verso le società con sorelle nella dovuta etica o forma di cortesia, soprattutto se ricambiata. La società invita quindi la tifoseria a continuare a sostenere la squadra che mai come ora ha bisogno del proprio pubblico, sempre dimostratosi il vero dodicesimo uomo in campo. Una decisione che la tifoseria comunque non ha gradito. Chi ha già fatto l'abbonamento avrebbe voluto una maggiore considerazione e una sorta di diritto di precedenza rispetto alle esigenze dell'altra società.